Torniamo sulla causa che c'è stato anche oggi per le vaccinazioni al Palauda di Chieti. Si è svolto nel frattempo un avvertice dal prefetto e intanto c'è chi si è portato la sedia direttamente da casa nell'attesa. Noi vogliamo fare un bilancio della giornata di oggi per quanto riguarda le code e anche la situazione con la nostra inviata Anna Di Giorgio che vediamo proprio di fronte al Palauda. Anna buonasera, allora facci un po' un resoconto di quello che è accaduto oggi. Mi sembra che la situazione rispetto a ieri non sia cambiata di molto. Sì Antonella, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, anche oggi purtroppo lo abbiamo documentato nel servizio che tra poco vedremo. Io e Andrea Berardinelli con la sua telecamera abbiamo registrato delle lunghe code di gente in fila per la somministrazione dei vaccini qui al Palauda di Chieti. Palauda che lo ricordiamo insieme al vecchio ospedale di Chieti che si trova nella parte alta della città è uno dei due centri vaccinali individuati appunto per il capoluogo Tiatino per la somministrazione dei vaccini. In questo momento le immagini realizzate da Andrea Berardinelli, lo vedete anche alle mie spalle, parlano chiaro. Chiaramente non ci sono più le lunghe file di oggi perché si stanno smaltendo semplicemente gli ultimi prenotati. Ricordiamo che come ci è stato detto questa mattina gli orari qui si lavora ininterrottamente da domenica a lunedì, da lunedì a domenica insomma con orari molto stringenti. Si parte dalle 8.30 la mattina per fermarsi poi alle 13, ricominciare alle 14.30 e proseguire fino alle 19.00. Ovviamente adesso sono passate le 19.30 perché siamo in diretta con il nostro telegiornale e quelle che vedete sono le persone che evidentemente erano già in fila da oggi e che adesso sono in attesa di ricevere la propria dose di vaccino. Dicevi bene tu, hanno fatto anche un po' il punto della situazione per cercare di far luce su questa situazione, su questo disguido che si è venuto a creare e che in realtà risulta semplicemente da una sovrapposizione di dati che erano prima gestiti dalla piattaforma della regione per la registrazione della manifestazione di interesse per chi appunto era interessato alla vaccinazione e poi con le prenotazioni del portale di poste italiane. Evidentemente c'è stata una sovrapposizione di dati e per questo motivo si sono venute a creare queste lunghe file con code appunto di attesa che abbiamo visto anche nel telegiornale di oggi. Prima di fare un po' il punto della situazione per vedere anche quello che è successo oggi perché c'è stato un vertice in prefettura e si è parlato anche di questo, vi ricordo che qui in questo momento al Palauda di Chieti stanno somministrando la seconda dose di vaccini Pfizer e la prima dose di AstraZeneca per cui insomma ci sono vari canali, varie linee vaccinali attivate e allora facciamo prima il punto della situazione, intanto poi magari rientriamo in studio anche per parlare d'altro. Vediamo il servizio realizzato oggi. Armarsi di sola pazienza non sempre basta, gli oltreottantenni ai fragili in fila davanti al Palauda di Chieti per la somministrazione del vaccino anti-covid. E così c'è qualcuno che da casa si porta anche la sedia perché l'attesa può essere davvero tanta. Come è accaduto anche ieri con la gente in coda davanti al centro vaccinale universitario per un problema tecnico di sovrapposizione tra i dati contenuti sulla piattaforma della regione e quelli delle poste, prima che la gestione delle prenotazioni dei vaccini fosse affidata a queste ultime. Risultato, fuori dal Palauda già interrabbiata in fila e dentro linee di vaccinazione e sovraccariche di lavoro in più da smaltire, tanto che oggi il problema è stato anche al centro dell'incontro che si è svolto tra gli altri, tra il prefetto di Chieti Armando Forgione, il sindaco Diego Ferrara e il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti Thomas Schell. Dall'azienda sanitaria fanno sapere che il problema, di natura puramente tecnica, della sovrapposizione dei dati delle due piattaforme sarà risolto il prima possibile dai tecnici della regione e di poste italiane, ma intanto il personale del CUP è già all'opera per riprogrammare telefonicamente le prenotazioni doppie e assegnarne di nuove. Inoltre, per smaltire le lunghe fili all'interno del centro vaccinale del Palauda, alle tre linee di accettazione amministrativa, se ne è subito aggiunta un'altra per velocizzare le pratiche burocratiche e presto ne sarà aperta anche un'altra. Stesso discorso per la somministrazione dei vaccini, con l'aggiunta di due linee in più rispetto alle cinque già esistenti al fine di procedere senza ulteriori ritardi. Una mano tesa per decongestionare il centro vaccinale universitario arriva anche dal sindaco Diego Ferrara, che propone l'apertura di un altro centro vaccinale su Chieti, oltre ai due già attivi al Palauda e al Vecchio Ospedale, individuando una possibile sede nel palazzetto di Colle dell'Ara. Questa sede è il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara che da settimane, se non da mesi, noi stiamo offrendo al direttore generale come ulteriore sede logistica, ma non solo per velocizzare le vaccinazioni, perché poi dipende molto anche dalla disponibilità dei vaccini, ma anche per decongestionare. Quindi fra qualche settimana, si spera, arriverà un numero notevole di vaccini e il direttore generale non ha altro che da telefonarmi e il palazzetto sarà aperto per tutte le esigenze dei cittadini.